L'accusa è di associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione illegale d'armi, rapina, ricettazione e danneggiamento. Ma sui 32 indagati pendono accuse ancora più gravi come le estorsioni e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nella provincia di Foggia e in varie località d'Italia come Lecce e Reggio Calabria nei confronti di 32 persone ed eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari. L'operazione, denominata Babela, fa riferimento ai fatti risalenti al periodo di tempo compreso tra il 2011 e il 2013. Dei soggetti coinvolti, 21 sono destinatari della misura in carcere, 5 ai domiciliari e il resto sottoposto all'obbligo di firma. Tra gli indagati c'è anche Pasquale Moretti, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità foggiana. Circa 150 i carabinieri impiegati per mettere a segno l'operazione.